FESTEGIAMENTE SAN VALENTINO In sala consigliare, insieme al sindaco Silvia Susanna e alla giunta comunale, erano presenti anche Maurizio Troi, assessore del comune di Colle Santa Lucia, e Dani Dorigo, direttore dell'istituto Ladino, oltre agli organizzatori delle iniziative Proloco, Confcommercio, Confraternita Risi e Tocchi e Cenacolo delle Bricole. Vediamo il servizio. Sindaco Silvia Susanna, com'è nata questa idea? Per quanto riguarda le iniziative di solidarietà, ormai sono tre anni che i commercianti di Musile si uniscono per fare qualcosa, per fare del bene. Infatti il titolo dell'iniziativa è Chi ama dona, un'iniziativa bellissima che in questi anni ha fatto molto. Il primo anno si è rivolto al comune di Amatrice, in particolare a una famiglia di Amatrice che abbiamo avuto anche la possibilità di ospitare qui per qualche giorno e abbiamo conosciuto l'anno scorso per l'acquisto di caschi refrigeranti per le donne in chemioterapia, quindi per evitare la perdita dei capelli. E quest'anno invece verso il nostro Veneto, in particolare verso il comune di Colle Santa Lucia, che come diceva lei è il comune più colpito o fra i più colpiti dagli eventi atmosferici. È un'iniziativa che come sempre è mirata, cioè non è rivolta in generale a un'iniziativa generica, è proprio rivolta ad una situazione particolare e questo è un po' il suo elemento che la caratterizza, ma che oltretutto invoglia ancora di più i cittadini a fare beneficenza. Il comune di Musile risponde benissimo e lo vediamo sia da parte dei commercianti, che quest'anno sono più di 35 che hanno aderito a questa iniziativa, ma anche proprio i cittadini che acquistano, non è la parola corretta, che fanno queste donazioni, ricevono in cambio il gadget. Quest'anno è un bellissimo cuore in ecopelle, con la scritta Io amo il Veneto, ben realizzato perché è completo di tutte le sue parti, ma tra l'altro fatto veramente molto bene e questo è proprio fatto a mano da parte di alcuni commercianti. Quindi è proprio un lavoro sentito e una cosa che ci rende orgogliosi perché San Valentino è la nostra festa, abbiamo voluto dare questa caratterizzazione di evento, di solidarietà, per fare comunità e per cercare di fare del bene. Maurizio Turchetto, gran maestro della confraternita Rizietocchi, fra le tante iniziative a favore delle popolazioni colpite dal maltempo, anche Musile ha voluto partecipare a questa gara di beneficenza. Esatto, noi ci siamo trovati diversi mesi fa a valutare subito dopo quello che era successo e siamo andati a visitare il comune con la signora Lucia e abbiamo pensato proprio di lanciare subito questo tipo di manifestazione, che per noi è una manifestazione molto importante perché appunto coinvolge 300 salvatanai, quindi 300 attività produttive di tutto il mandamento comune, San Donato, Musile, Fossa Alta, Eraclea, cioè tutto quello che ci circonda, ma il devoluto sarà andato totalmente alla protezione civile di Coloro Santa Lucia e come tutti sanno sono persone volontarie che mettono del tempo e sono i primi di solito a intervenire quando c'è qualcosa che non funziona. Sono però due le iniziative, una è quella che avete visto, i salvatanai, quindi questi 300 salvatanai, la seconda sarà proprio la possibilità di comprare un mattoncino che avrà un valore di 25 euro e uno potrà contribuire anche oltre il salvatanai ad acquisire dei mattoncini per la costruzione di questa nuova sede. Come è nata questa idea? Ma è nata appunto perché noi diciamo tra virgolette in Veneto quando succede qualcosa ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo in tutto possibile di darci una mano. Abbiamo visto che ci sono davvero delle persone che hanno sofferto molto e stanno soffrendo tuttora e quindi per noi non costava niente metterci del tempo. Abbiamo pensato bene di farlo e siamo ben contenti di averlo fatto e di cominciare questa iniziativa. Dani Dorigo, direttore dell'Istituto Ladino, Sesa Deiani. Che effetto vi ha fatto l'aver saputo di questa iniziativa? Sì, il primo sentimento è quello della sorpresa ovviamente, la sorpresa di aver ricevuto la prima telefonata e durante i primi incontri di sapere che c'è un'intera comunità che si muove per portare un po' di solidarietà e un aiuto concreto a chi effettivamente ha avuto bisogno. Come stanno andando i lavori di ricostruzione? Diciamo che la risposta soprattutto della popolazione è stata immediata perché tutti i problemi principali, quindi la viabilità e soprattutto le case, quindi tutti i danni ai tetti, soprattutto con la Santa Lucia sono stati molti i tetti delle prime case, delle abitazioni danneggiati. Ora permane il problema della rimozione del legname a terra che comporta vari problemi, fra cui il disesto idrogeologico, il problema valanghivo, però speriamo che si riesca a risolverlo in tempi brevi.